Cari amici di LG, eccomi di nuovo qui con voi per parlarvi di G6, lo smartphone che cambia le regole del gioco. Cercate un display grande per navigare, ma non volete uno smartphone ingombrante? Con il nuovo G6 questo diventa realtà. Eccolo qui, uno smartphone con display da 5,7 pollici nelle dimensioni di uno da 5,2 pollici. Lo abbiamo chiamato Full Vision perché il display ha cornici sottilissime e occupa più dell'80% della superficie frontale. Grazie al display Full Vision potrete usare G6 comodamente con una mano sola e avrete più spazio per leggere, navigare tra poste e fotografie, giocare o guardare video perché ha un rapporto d'aspetto 18 noni, un po' più lungo dei comuni smartphone. Il design di G6 è essenziale e rifinito. Ha un profilo sottile, solo 7,9 mm ed è realizzato in una speciale lega di alluminio. Ha gli angoli smussati sia sullo chassis sia sul display e la superficie posteriore è in vetro Gorilla Glass 5, molto resistente ai graffi. Il tutto senza che ci siano sporgenze, nemmeno per la fotocamera. Parlando di fotocamera, G6 ne ha due nella parte posteriore. Una con ottica standard, da 71 gradi e l'altra con lente grandangolare da ben 125 gradi, utilissima quando avete bisogno di un'inquadratura più ampia, ad esempio per scattare foto a gruppi di persone. Entrambe le fotocamere hanno la stessa risoluzione da 13 megapixel, così avrete la stessa qualità visiva sia sugli scatti panoramici che su quelli più ravvicinati e potrete passare dall'una all'altra ancora più rapidamente. Anche la fotocamera anteriore da 5 megapixel è grandangolare, a un campo visivo da 100 gradi per non lasciare fuori dai selfie nessuno dei vostri amici. Perché G6 è lo smartphone social per eccellenza, con tantissime funzionalità fotografiche pensate per condividere i vostri momenti, come i filtri in tempo reale oppure square camera per creare rapidamente collage fotografici. E poi non mancano le funzionalità che accompagnano gli smartphone LG, come i selfie con riconoscimento del volto o dei gesti, la modalità professionale per foto e video con tanto di stabilizzazione e regolazioni audio, la registrazione 4K e tanto altro ancora. Potrete contare su G6 qualunque cosa facciate, perché è uno smartphone affidabile e resistente. Con una batteria da 3300 mAh, che si carica al 50% in soli 35 minuti, non resterete a corto di energie sul più bello. È certificato poi IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere e il processore Qualcomm Snapdragon 821, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 32 GB espandibili per l'archiviazione, tiene testa a tantissime app, ai giochi e al multitasking. E per la sicurezza dei vostri dati potrete sempre contare sul sensore delle impronte sul retro. Volete saperne di più? Trovate tutti i dettagli tecnici sul sito www.lg.com.it. Insomma, il nuovo G6 vi offre uno schermo full vision più grande ma in un formato più maneggevole. Foto con grand'angolo sia per la fotocamera principale sia per i selfie, la resistenza all'acqua e un design curato e affidabile. LG G6 sarà presto disponibile in tre diverse colorazioni, Astro Black, Ice Platinum e Mystic White. Non ce la fate più ad aspettare il vostro G6? Non vi preoccupate, vi attendo nei prossimi video in cui andremo ad approfondire alcune sue funzionalità. Ciao! Grazie a tutti!